L'Opus Dei compie 80 anni. Ritiene che abbia svolto in pieno il compito che le è stato affidato? Sapendo che tutte le opere buone che si fanno nella terra, volenti o non volenti gli uomini, le fa il Signore, posso rispondere affermativamente. Perché? Perché la prenatura esiste per ricordare che Dio chiama tutti a diventare santi e ad aiutare le persone a incontrare il Signore nelle diverse circolazioni, nelle mille situazioni difficili della vita, nel lavoro, in famiglia, con gli amici. La santità porta a rispecchiare sempre meglio l'immagine di Gesù Cristo e ad aiutare le altre persone a incontrare il Signore. Il messaggio dell'Opus Dei è nuovo, perché come il messaggio dell'Opus Dei è sempre nuovo. In questo senso il Papa Giovanni Paolo II diceva che San Josemaria è il santo dell'ordinario, perché spinge tantissime persone a comprendere, a capire, che la vita quotidiana non è qualcosa di grigio o ripetitivo, ma che può essere illuminata sempre dalla santità dell'amore di Dio e anche dalla gioia di Dio. E questo messaggio, senza altro, dal punto di vista umano, naturale, non è tanto facile, non è facile di raggiungerlo, ma con l'aiuto di Dio si può. 80 anni fa questo messaggio era nuovo e rivoluzionario e io penso che, tutt'oggi, lo dico pensando all'esperienza mia e all'esperienza di tante persone, continua ad essere nuovo e rivoluzionario. Senta Padre, sull'argomento sono stati scritti tanti libri, ma pensando anche di rivolgerci a persone che non sanno nulla, ci può raccontare come nacque l'Opus Dei, quando si può dire lì è nata l'Opus Dei? E' nata l'Opus Dei dopo molti anni di orazione di San Josemaria, perché lui ha sentito che il Signore lo chiamava per fare qualche cosa che non sapeva cos'era. E di cui l'eroicità della sua fede. Passarono degli anni, molti, pregando, pregando con una giacolatura, Domino di Vida, Signora, che io veda, che io veda quello che tu vuoi. E così, con questa preparazione di una orazione di una mortificazione continua, per essere pronto ad adempiere la volontà di Dio, il giorno di ottobre del 1928, vide quello che era l'Opus Dei. Vedendo questa meraviglia, perché è un'avventura meravigliosa di santificare la vita quotidiana, cade in genocchio e si decise a svolgere quello che il Signore gli chiedeva.